torneo cnb members 2021 settimo turno se non ricordo male carlo melzi contro diego bragato seguo normalmente le partite di carlo quando mi capita quando so l'orario e quando posso seguirle questa volta ho deciso di provare anche a registrare un commento in modo da condividerlo con chi è interessato le partite di carlo sono sempre estremamente istruttive per cui non dubito che ci saranno diversi spettatori interessati inizia la partita entrambi i giocatori hanno due sconfitte chi perde esce dal torneo con le pedine bianche diego bragato con le pedine nere carlo ecco già una scelta abbastanza impegnativa slotta il bar point è abbastanza indietro in corsa dopo il doppio 5 di diego quindi la scelta è ottima penso che farei casa 20 e colpirei sul 2 diego danza questo potrebbe essere un cubo secondo me è un cubo perché oltre all'ottima posizione di blitz diego ha 4 pedine già dietro l'ancora di carlo l'ottima ancora di carlo su golden e quindi queste 4 pedine sono un po' fuori gioco quindi il double è sicuramente corretto e il take non saprei non saprei e infatti Gnu bolla il take di diego come un blunder adesso diego è anche indietro in corsa giocherei 24-22-6-2 deve assolutamente cercare di scappare oppure potrebbe essere anche 24-18 vediamo sono curioso no 6-2-3-1 quindi le mie mosse erano un errore molto netto in effetti carlo ha la cosa più forte e potrebbe avere un blitz molto molto forte doppio 2 per carlo che colpisce un'altra pedina ottima risposta di diego che fa un'ancora importantissima per evitare almeno parecchi gammon è nettamente in svantaggio ma adesso la posizione diventa giocabile 6-5 prime da 6 ottimo tiro per carlo doppio 5 non è un tiro eccezionale 4-1 non c'è altro doppio 5 non è bello adesso rischia di scoprirsi tira un 6-4 che è ottimo e qui non è una scelta semplice probabilmente sarei rimasto ancora indietro perché così non ha grandi possibilità di vittoria beh però 6-6 e 5-5 sicuramente aiutano sarebbe sufficiente per diego un altro doppio che però non arriva e carlo parte sul 2-0 double hit ottimo doppio 2 casa 23 e casa 4 sì direi che deve fare casa 3 non ci sono altre possibilità altro ottimo tiro per diego che fa casa 5 e qui direi che non so al posto di carlo se farei casa 5 probabilmente sì anche se la casa di diego fa abbastanza paura infatti è un errore allora diego è un po' in ritardo in corsa giocherei 13-6 questa non mi piace vediamo 13-11 13-8 migliore 13-6 è un blunder sì in effetti è importante per diego fare il bar point allora la corsa è all'incirca pari penso che probabilmente giocherei entrambe le pedine sul 6 11-6 9-6 era la mossa corretta Carlo non colpisce perché poi avrebbe grossi problemi a giocare l'uno e diego tira un ottimo 6-6 il 6-6 di Carlo è molto meno ottimo qui adesso la corsa è pari però diego cuba qui secondo me non può lasciare il tiro deve giocare come ha giocato in sicurezza adesso rifà casa 8 importantissima perché la corsa è all'incirca pari e quindi così contiene molto bene le pedine di diego sì giocherei questa perfetto è ancora un po' in ritardo in corsa è brutta non c'è niente di meglio 3-2 sposterei dall'8 avanzerei non so probabilmente deve uscire con entrambe no invece è sbagliata quella di Carlo qui mi sto confondendo è Carlo che ha le pedine nere scusatemi è ricubato mi sono distratto un attimo abbiate pazienza ottimo doppio uno di diego ma penso che avrei fatto casual bar point troppo importante visto che Carlo ha una pedina sulla casa 24 doppio 6 di Carlo e qui colpire giocare 24 18 oppure fare casa 7 beh 3-2 fa casa 4 qui deve ovviamente cercare di scappare adesso Carlo è nettamente in vantaggio in corsa 5-4 fa l'ottima casa 9 qui potrebbe essere presto per cubare perché perché due gap sulle case 7 e 5 qui potrebbe giocare la mossa safe 13 9 oppure fare casa 5 che è un po' rischiosa ma Diego ha due block nella sua casa mossa safe è la mossa corretta fare casa 5 era un errore da 43 6-3 non è bella deve giocare questa ci sono 13 tiri che colpiscono Diego colpisce e chiude la quinta casa qui il cubo mi sembra corretto ma Carlo deve accettare questa non va assolutamente bene col 3 colpirei senza esitazioni no questo è un blunder molto grosso infatti doveva colpire blunder da 300 e viene punito immediatamente perché Carlo scavalca tutte le sue pedine e anche indietro in corsa per cui non è granché utile cercare di uscire 5-1 non è un bel tiro 6-1 un tiro pessimo adesso se Diego tira un 4 un 6 nel caso di questo tiro preferirei comunque questa mossa 5-2 deve scappare qui ha senso il cubo a 4 anche se su questo punteggio è un bel rischio però ha troppi tiri buoni Carlo oltre ad un vantaggio di 12 in corsa e il tiro però Diego avrebbe dovuto accettare probabilmente in considerazione del punteggio ma l'errore è minimale siamo 6-0 per Carlo 3-1 avrei fatto il golden il cosiddetto curing point o curing point che è la denominazione di mici che era migliore di 14 millesimi in questo caso vi suggerisco nella scheda in alto a destra è riportato il video la pillola del martedì che riporta appunto la descrizione del curing point siamo intanto 6-1 entrambi costruiscono la lancora sul bar point dell'avversario Diego è un po' avanti in corsa ma diciamo che la situazione è molto equilibrata 13-6 a curioso mi è sfuggita la prima mossa di Carlo Diego ha giocato 5-1 sul 5-1 in apertura la mossa corretta è 24-21 la sapevo brutto tiro per Diego questo doppio 6 non è una bella notizia doppio 5 invece è decisamente migliore adesso si trova nettamente in vantaggio in corsa questo double mi sembra prematuro perché rischia tantissimo di scoprirsi Carlo sta pensando solo per il punteggio perché altrimenti sarebbe stato un take istantaneo ma comunque accetta direi accetta doverosamente 7-3 deve mantenere tutte le possibilità di colpire molto probabilmente adesso Diego si scoprirà qui avrebbe un double ma su questo punteggio non è proprio il caso questo secondo me è too good questa non mi è piaciuta questa mossa di Carlo uno 6 uno scambio di uno 6 incredibili doppio 6 eccezionale per Carlo adesso direi che le possibilità di Gammon sono elevatissime probabilmente superiori al 75% anzi direi anche superiori all'80% intanto Diego sta giocando a 11 Carlo a 3 ottimo tiro per Diego che è rientrato con due pedine rientrato anche con la terza quindi adesso ha qualche possibilità concreta di evitare il Gammon non tantissime comunque in più sta tirando dei dadi bassi direi che il Gammon è quasi sicuro doppio 3 è buono ma deve tirare un 5 5 o 6 6 non lo tira e andiamo sul 10 1 per Carlo 3 1 qui la scelta tra fare casa 5 e l'ancora sul 21 che su questo punteggio sarebbe stata la scelta preferibile dice GNU 6 5 qui colpirei sulla casa 3 senza dubbio invece no sembra corretta la mossa di Diego no ecco la mia era preferibile di 16 millesimi mi consola perché mi ero sbilanciato oltre misura dicendo che avrei colpito senza alcun dubbio qui interessante perché Carlo deve scegliere tra fare casa 4 e scappare con la blot col runner dal 22 sceglie di fare casa 4 Diego prova a scappare e Carlo non colpisce sembra abbastanza presto per cubare perché non può perdere il mercato giocherei 13 7 invece sembrerebbe corretto il double no ok era un no double di 15 millesimi ok va bene mi consola il fatto che almeno nelle partite non mi azzecco le decisioni qui qui probabilmente farei casa 7 ma è molto buona anche questa 11 4 ottimo doppio 6 di Diego meno buono il doppio 5 di Carlo porta Diego tutte le pedine nella sua casa interna doppio 3 di Carlo che deve smontare completamente casa però comunque corre pochissimi rischi di Gammon che poi è un po' la cosa più importante dal momento che conduce per 10 1 questa mi sembra corretta tenendo conto della casa di Carlo prova a rischiare qualcosa in più per il Gammon infatti era preferibile l'altra possibilità doppio 4 però direi che non c'è il Gammon andiamo 10 3 per Carlo tanto i due giocatori stanno giocando molto veloci correttamente colpisce anche qui stranamente abbiamo un errore alla prima mossa di Carlo che sul 6 2 secondo me deve scendere con 2 dal mid fatti fatti 13 10 13 9 Diego nel frattempo ha cubato ma Carlo ha una posizione molto solida adesso fa anche casa 4 ottimo tiro per Diego eccezionale Carlo riesce a portare avanti le pedine e colpire Diego danza mi sembra la scelta migliore devi in ogni caso lasciare un blot e questa è la soluzione sicuramente migliore questa lascia qualche tiro in meno però mi sembra molto più rigida io preferirei l'altra possibilità vediamo migliore quella di Carlo di 27 millesimi che strano farlo in vantaggio di 3 pip soltanto ovviamente il redouble anche visto il punteggio è totalmente fuori da ogni considerazione 6 2 direi 8 2 6 4 penso che porterei le pedine dall'8 al 7 e no questa non mi piace vediamo sono curioso 13 12 3 e 3 2 quindi portare avanti dal mid la la mia paga 10 millesimi quella di Carlo 18 millesimi bella consolazione sì assolutamente no porterei avanti la pedina e direi 3 1 senza dubbio 6 3 qui deve scappare 3 2 pick and pass ottimo tiro per Carlo no non vedo perché non 9 3 sinceramente questa mi piace di più infatti alla fine Carlo sceglie questa andare sul bar point e giocare 8 6 da due tiri in più a Diego probabilmente non vale la pena potrebbe anche giocare questa per cui non c'è nessuna possibilità per Diego di colpire adesso ma tutto sommato preferirei 13 11 che mi dà la quasi certezza di portare la pedina a casa al prossimo tiro 5 2 e uscirei con una pedina doppio 5 ottimo tiro per Carlo non c'è il gammon per cui andiamo sul 12 3 quindi Crawford Carlo ricuba e ovviamente è un netto pass comunque Diego ha migliorato adesso è sotto gli 8 e Carlo è poco più di 3 punti di PR qui stavo dicendo io a questo punto cuberei ma invece è Crawford quindi non può cubare ottimo tiro di Carlo che ha però comunque una struttura molto rigida ma penso che andrei dal 24 al 16 non ha senso secondo me questa mossa no invece gioca 7 3 e 6 4 2 cioè tiene le due pedine arretratte per cercare di colpire ottimo tiro per Diego 5 4 farei casa 3 indeciso tra le due possibilità casa 3 era sbagliata di 8 millesimi Carlo ha giocato la mossa migliore adesso Diego è avanti di 13 dopo il tiro di Carlo di 6 doppio 5 passa in vantaggio Carlo e 10 5 direi direi che Carlo ha un buon vantaggio inizia anche a uscire prima a meno wastage tira un ottimo doppio 4 diciamo che il match è indirizzato verso una rapida chiusura direi che Diego ha giocato bene poco sopra i 7 Carlo ha giocato benissimo come al solito sotto i 3 e qui è matematica la vittoria di Carlo che esce al primo tiro congratulazioni a entrambi e terminiamo qui il commento attra